Siamo arrivati finalmente a 600 video, ma facciamo finta di niente e andiamo avanti, festeggeremo a mille, speriamo di arrivarci. Oggi utilizziamo ancora l'MCP23017 con le Interrupt. Come vedrete lato MCP non cambia niente, semplicemente aggiungeremo qualcosa in più su Arduino per gestire le Interrupt, cioè i segnali che mi arrivano su alcuni pin, in questo caso il 2. Iniziamo subito. Riprendiamo ancora l'MCP23017, oggi useremo le Interrupt vere. L'hardware che realizzeremo è sempre questo, quindi abbiamo la nostra schedina connessa via i 2C con un Arduino Nano o l'Uno, su questo abbiamo un LED collegato sul pin 13 che ci serve per segnalazione, la scheda ha tutti i suoi pin di ingresso e uscita, noi abbiamo collegato un tasto sull'ingresso PA1, quindi è il secondo ingresso del gruppo A perché partono da zero, tasto con resistenza di pull down, e poi tiriamo un filo dall'uscita INT A verso l'Arduino sul pin 2 perché il pin 2 è quello che è sensibile alle Interrupt. Molti sono allergici alle Interrupt, ma sono meccanismi abbastanza semplici da usare. Oggi vedremo come metterli in piedi in modo classico e quindi un pochino più funzionale, cioè l'Arduino può fare altro, ma quando arriva a sto segnale si risveglia e risponde immediatamente, senza impegnare il loop. Le librerie da utilizzare sono, anche se la scheda è di DF Robot, quelle di Adafruit. Allora vado a recuperare parte del codice che abbiamo scritto l'altra volta per non starlo a scrivere da zero, quindi includiamo la libreria, creiamo l'oggetto che si chiama nello stesso modo, lo mettiamo qua così, poi inizializziamo la libreria passandogli l'indirizzo I2C, qui lo passo al metodo begin I2C di MCP, verificate che l'indirizzo sia 027, potrebbe essere che magari ha un'impostazione differente, controllate eventualmente con lo sketch I2C scanner che trovate in rete. Poi impostiamo i due pin, li abbiamo visto l'altra volta, i due pin che utilizzeremo sono il pin 2 e 13, 2 è quello che riceve il filo delle interrupt che arriva dall'MCP, il 13 è quello per il LED. Abbiamo una parte dell'interrupt che abbiamo già preparato l'altra volta, che è relativa alla scheda MCP, quindi dobbiamo attivare l'interrupt con MCP Setup Interrupt, che è quel comando un pochino ambiguo, non si capisce bene come funziona, anche perché è descritto male, c'è solo questo commento che veramente è un pochino oscuro. Poi, da quanto ho capito, comunque tiene questo il segnale sempre alto e scende quando c'è l'interrupt. Abbiamo poi l'impostazione del pin, diciamo che il pin 1 è un ingresso, quello su cui colleghiamo il pulsante, poi attiviamo le interrupt su questo pin con MCP Punto Setup Interrupt Pin 1 I. Quindi quando il segnale sul pin va alto, genererà l'interrupt. E poi siamo pronti. Allora, per utilizzare le interrupt, dobbiamo, dentro il setup, ci possiamo mettere qui sotto, creare un handler, cioè una funzione che viene richiamata quando arriva un segnale sul pin. Si utilizza Attach Interrupt, quindi diciamo qual è il pin su cui arriverà questo segnale. C'è un metodo che si chiama Digital Pin To Interrupt. A questa funzione diamo il pin 2. Quindi vogliamo che sia il pin 2 quello attivo per l'interrupt, quindi quello che farà attenzione a quello che arriva. Qua gli diremo, guarda, che la funzione da chiamare, se ti arriva qualcosa, si chiama handler, e ora l'andremo a creare. E poi, qua abbiamo varie possibilità, gli dirò quando il segnale è falling, quindi quando scende. Potete mettere ilo, eccetera, ci sono varie possibilità, andate a vedere sulle pagine dell'API di Arduino, trovate descritte queste costanti, che tra l'altro avevamo già anche discusso. Cosa succede qua? Quando arriva un segnale, questo richiama la funzione handler, che definisco qui. Handle, aperta e chiusa, non fa nulla. Semplicemente andremo a modificare lo stato di una variabile. Quindi creiamoci una variabile, la mettiamo qui sopra, la chiamo. Ah, sarebbe di tipo bool, pressed, uguale false. Bisogna mettere volatile, volatile. Questo va specificato nel caso che la variabile possa essere modificata da più punti, quindi per evitare situazioni di stallo. Ok, quindi andiamo qui sotto, dentro handler, mettiamo pressed uguale true. Quindi se pigge nel tasto, dentro l'handle, faccio qualcosa di molto rapido per non impegnarlo, Arduino si blocca, qualsiasi cosa stia facendo va ad eseguire il codice che c'è dentro l'handle, semplicemente che abbia lo stato di pressed. Dentro loop mettiamo un if, che se pressed è true, allora va per esempio ad accendere il nostro led. E quindi qua possiamo andare, intanto mettere pressed, uguale false, così che possiamo richiamare un'altra volta il tasto, ricevere un altro interrupt. Avendo ricevuto l'interrupt, possiamo andare a chiedere alla schedina qual è stato il pin che ha ricevuto questo interrupt. Quindi qui ci dà il numero, qui semplicemente lo stampo, e poi andiamo ad accendere e spegnere il led sul pin 13 per segnalare appunto che abbiamo ricevuto qualcosa. Possiamo compilarlo, caricarlo, e vediamo se funziona. Vedete che qui risponde con un'accensione singola, quindi molto più preciso, e soprattutto è più reattivo, perché usiamo veramente l'interrupt di Arduino. Quindi combiniamo i due meccanismi, l'interrupt dell'MCP con quella di Arduino. Bene, abbiamo concluso la panoramica sull'MCP 017, spero anche il ripasso delle interrupt sia utile, come vedete non è complicato come meccanismo da utilizzare, usatelo con parsimonia. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!